Eh niente Aveva bevuto la Red Bull Guarda ma anche di più Anche più cose probabilmente aveva bevuto Ma perché loro si muovono già? Fisicamente l'ho vista muoversi subito Vabbè però mi è corsa in faccia La zoniamo di qua va bene Non è un problema Cosa stupidissima che ha fatto Pensavo avesse light Quindi non ho swingato subito Ma c'ho Arle contro? Arle ma stai giocando Arle? Ciao Ito buonanotte grazie Stai usando il killer più Più di sgaccia Non so cosa voglio dire Uccidiamo Arle Stai contro di me Ma sta ancora urlando raga Ma scherziamo Save Davvero? Peccato Off the record Dard Cos'era? Dard mi sa Guarda finché si vuole giocare Sti pallet Sti vault Eccetera eccetera A me va benissimo Perché mi sto droppando Tanto sangue Vedi? Ogni volta che fa un'azione Mi droppa sangue Ed è tutta quindi In questa zona concentrata In più Mi sta eliminando Tutti i pallet di sta zona Quello lì lo lascio Perché non è grave Per il momento Un altro pallet Un altro pallet Lo deve tirar giù Presa Nice Se l'ha pure buttato giù Very good Adesso c'è una bella pulizia Di pallet E poi abbiamo il potere C'è eruption E overcharge Me lo devo ricordare No non è lui Scarlet Lui si chiama Senza space Se non ricordo male E in più Oddio Però è da console Ma non è veramente lui Dai Ragazzi sono andati Questa entrambi Mi pare sia lui È lui davvero raga Ma pensavo stesse scherzando Perché l'ha scritto Mentre stava correndo Ma Rift Tipo domani Finisce Rift Lessi Domani alle 17 Dicevano Sì è lui Sì è lui È Harley 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 se ci sei No l'ha scritto Però stavo vedendo Che stava correndo E mi pare Se fosse senza L'underscore Arle Il nick Lo so Lo scopriremo Finito sto Genda È possibile Che abbia chiuso La live Perché non vuole Stream snipe Fare con Todder Prendere per Harley Mi sa che ci devo farlo Farlo E Rav Non ha fatto urlare Nessuno Cos'è TWD The Walking Dead L'ho visto un po' Ma dopo un po' Mi ha annoiato Onestamente Perché è stato Harley Potrebbe essere stato Harley Perché è in fondo Andiamo verso quel genre lì Guardi c'è qualcuno Sì È tornato indietro F**k È tornato dentro Fuori Cioè Nice Anti-slug build Sì Anti-slug build Non te la lascio fare Mancano due gen Comunque Comunque Harley Non Harley Uno è morto Dio Dividi Dicevo non sei qualcuno Forse Teoricamente O forse martedì prossimo Comunque Non troppo tempo Si devono essere curati Sotto l'uncino Quindi immagino Che qui No Ok Ok Harley C'ha balance Quindi tanto vale Che mi fermo A calciare il gen Overcharge Rapsh Overcharge Rapsh Ho un buon 3 gen Qua eh Actually Vorrei sapere Dove sono gli altri Saranno di là Si dropperà Pre Sicuramente ha fatto Spodere Il gen No Non si è droppato Però Probabilmente finiranno Quello Ma Devo difendere solo Il trigione Quel gen lì Non è più in regressione La mia impressione Balance Balance non ce l'hai di nuovo Perfetto Abbiamo il potere Sì Mercoledì Esatto Andiamo fuori Adesso Di qua Buono Eruption value Infatti c'era qualcuno Che stava facendo Quello Però non vedo Comunque C'hanno di solution Andiamo qua Non so chi Forse Arl è solo L'unico dead Dead nook Fatemi che scalciare Prima questo A questo punto Guardandiamo tempo Ci sono un bel po' di orb Buono buono Le orb sono buonissime In questo caso Perché vogliamo correre Agli altri generatori C'è qualcuno qui Nice Overcharge value Let's fucking go Rimane solo Arl Troppa skill snake Dai ho commesso Quattrocento serpentini Mi manca poco Sangue Dai Due di sangue Mi mancano Ok Eccolo qui Mi sa che Sono morti Lasciamo scappare Arl Che dite Se trova lui La botola Ovviamente Comunque Drift King Va che roba Oh è fuori È fuori È fuori Andiamo a ucciderlo A prenderlo No assolutamente Corri 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 Guarda lì No 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 Che lascia scappare Se lui trova Se lui trova La botola Dai, dov'è la bottolina? Non trovo la bottola però Ma che scam Non trovo mai la bottola quando serve Oh, ecco la bottola Il gioco ti sta dicendo di appendere Vabbè, dai, lasciamo A bottola O uncino Bottola o uncino Dai, vai E invece Dai, siamo cattivi Mi spiace Arle però Ne va Me l'hanno chiesto in chat Guarda che cattivi che siete, raga Ma come godo Chi è sto non so che è infamata Ora scrivi GG, eh No Ma no, ma puoi provarle, dai Ma eri davvero tu Arle, quindi Mi deve venire un cagato totto come un mattone, sì L'hai messo tu, RPD Te lo sei meritato Te lo sei meritato tutto, Arle Tutto te lo sei meritato Ma portatore del RPD Giustizia è fatta Esatto Vabbè, dai, GG Ma eravate Eri in pre-made Arle O eri da solo? Eri in pre-made Arle Grazie a tutti.